Questo video è sponsorizzato da Warner Bros. Forza, Batman! Fallo! Sì! Sarò il migliore Batman in vita! Io sarò il migliore! Io sono Batman! No, io! Io sono Batman! Io! Wow, Nicky, cos'è questo? Non lo so! Apriamolo! Wow! Fantastico! Andiamo! No, 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 no! Batman non mangia quello! Sì! Fantastico! Fantastico! Bello! Vlad? Nicky? Vlad! Nicky! Oggi non è Halloween! Mamma, stiamo giocando a Batman! Sì, mamma! Ci servono i giocattoli di Batman! Nessun problema! Ciao! Ci servono i giocattoli di Batman! Manu! Sì, per favore! Wow! Apriamolo! Wow! 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 È una nuova Batcaverna! Wow! Questa è la mia macchina! Fantastico! Yeah! Nicky, apriamolo! Evviva! Ciao, Robin! Se vuoi posso farti vedere la mia Batcaverna! Sì, perché no? Ti faccio vedere la mia Batcaverna! Ma è un segreto! Andiamo! Robin, sei il prossimo! Ho paura dell'altezza! Non preoccuparti, va tutto bene! Hey, Robin! Cosa stai facendo dentro il bidone della spazzatura? Ah! Ah! Cado! Ehi, forza! Andiamo! Dov'è la Batcaverna, Batman? Qua! Vieni dentro, Robin! Wow, è bella! Questo è il mio Batcomputer, Robin! Sto salvaguardando la città! Non ci sono più minato! Per fortuna, non c'è il gioco! Andiamo al piano di sotto! E qui c'è la mia armatura! Guarda! Dorata! Ti piace il mio stile? Wow, bello! Ma è molto difficile stare in piedi! Batman, la sua caverna è molto bella! Grazie! Blood! Nicky! Forza, ragazzi! È ora di fare una passeggiata! Sì, mamma! Forza! Forza! Andiamo! 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 Ok, ragazzi! Forza, forza! Questo è per voi! Cos'è, mamma? Non è per Batman! Oh, lo so! Wow! È fantastico! Prima io! No, prima io! Andiamo! Forza! Yuhu! Andiamo! Yuhu! Più veloce! Yeah! Andiamo! Fantastico! Ciao, amici! Oh! Un bidone della spazzatura! Controlliamo dentro! Pesce puzzolente! Oh, un bot simbolo! Wow! È il mio giorno fortunato! Ehi, c'è nessuno in casa? Chi ha parlato? Oh, divestiamoci! Facciamo una sorpresa a Robby! Il pesce puzzolente è stato utile! Ahahahah! Cos'è questo odore? C'è Puzza! Ti ha lasciato un pesce lì! Il mio piano sta funzionando! Questo video è stato sponsorizzato da Warner Bros! Prendi questo, Robby! Ehi, Joker! Sei stato tu! Devo contattare Batman! Adesso! Sei pronto? Vieni con me! Yuhu! No, prima io! Prima io? Prima io! Gotham City ha bisogno di me! Il Joker va consegnato alla giustizia! Devo rispondere alla chiamata! Joker controlla la Bat Caverna! Dobbiamo salvarla! Ok! Alla Bat Mobile! Andiamo! Wow! Sei pronto? Andiamo! Chi è stato? Wow! Chi è stato? Oh no! Batman è qui! Andiamo! Chi ha bisogno di aiuto? Oh no! Robby! Dobbiamo salvare la Bat Caverna! Oh no! Joker e Mr. Pig sono qui! Ah ah ah! Non puoi fermarci! Mancato! Mancato! Prendi questo, Mr. Freeze! Ah, che male! È quello che ti meriti, Mr. Freeze! Oh no! Devo andarmene da qui! Ciao! Buona giornata! Non preoccuparti, Robby! Va tutto bene! Adesso, battene da qui! Forza! Grazie per avermi salvato, Batman! Ora dobbiamo trovare Joker! Troviamolo! Ehi, Batman! Sai dove potrebbe nascondersi Joker? Hai visto nulla? Non ancora! Ehi, giù! Eh? Eccoti, Joker! Oh! Upsi! Scusa! Possiamo parlarne, ragazzi! Verrai sconfitto! Oh no! Lasciami! Lasciami! Ah! Buona giornata lì dentro! Ehi! Non è giusto! Ah ah ah! Bambini! È ora di dormire! Ok, mamma! Andiamo! Oh! Ecco! Ho un altro Batman! Fantastico! Giochiamo! Bello! Pronto per il prossimo lavoro! Oh sì! Ce l'ho fatta! Nikki, sei pronto per la scuola? Sì! Fantastico! Ottimo lavoro, Nikki! È ora di dormire! Ok! Forza! Scegliamo i nostri pigiami di Batman! Wow! 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 Mi piace questo! Wow! Questo è bellissimo! Wow! 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 Fantastico! Stai bene, Nikki! Vieni con me! Sogni d'oro e buonanotte! Ciao ciao, Nikki! Ciao ciao, mamma, Iama! Ok! Buonanotte, mamma! Buonanotte, Vladik! Questo video è stato sponsorizzato da Warner Bros. il tempo a ruling Please, se faccio in pl積 Buonanotte, Mutter